Va a braccio senza fogli e tacquini, fischietto in mano ed è ben chiara in testa, lezioni di tattica per il campo basso dal professor Massimo Silva che sente già suo il gruppo, un gruppo da rigenerare mentalmente e tatticamente e sì perché il 4-3-3 di Novelli ultimamente faceva acqua da tutte le parti, soprattutto in difesa, Silva sta lavorando sul nuovo modulo e è andato subito al cuore del problema. Bisogna chiudere la sala cinesca, prendere meno gol ed essere più cattivi sotto porta. Sarà un 11 molto pratico quello che ha in testa il nuovo allenatore dei Lupi in vista dell'esordio casalingo di domenica contro il Castelfidardo dell'ex Cappellacci. Non dobbiamo recuperare palla alla, grida i suoi mentre dirige l'allenamento sul sintetico dell'antistadio Selva Piana. Vuole una squadra corta, compatta, aggressiva ma allo stesso tempo mai spregiudicata e scoperta. Silva ha avuto un impatto forte sul gruppo che lo sta imparando a conoscere. È un sergente di ferro, atipico, buono, cordiale ma diretto e senza peli sulla lingua. Domenica potrebbe affidarsi ad un 4-4-2 abbottonato ma elastico. Con lui in campo ci sono anche i primi rinforzi. Il terzino classe 1998 Tiro Pollice di proprietà del Genua fino a qualche mese fa al Savona e con trascorsi nella Virtus Lanciano. E il portiere Giampaolo Montella che la Juve Stabia ha girato in prestito al Campobasso fino a giugno. Primi rinforzi di una lunga serie, Silva infatti ha chiesto altri calciatori. Per salvarsi occorrono nuove idee ma anche forze fresche e di categoria. Intanto il giudice sportivo si è accanito contro Ciccio Vitelli. Il bomber dopo l'espulsione di domenica ha rimediato tre turni di stop. Grazie a tutti.